Andiamo ora a Milano, il nostro Luciano Piscaldia ci porta all'interno della residenza per anziani del piccolo Cottolengo. Oggi la signora Mara può incontrare così il marito e in un reparto non accessibile alle telecamere anche il figlio. Entrambi sono ricoverati al piccolo Cottolengo milanese, una struttura per persone disabili e per anziani non autosufficienti, dove con molte precauzioni è finalmente possibile incontrare i familiari. Era talmente grande la felicità, non ci sembrava vero, ci sono stati proprio dei momenti anche di commozione, questo rivederci dopo tanti mesi ci è sembrato una rinascita, ci è sembrato un qualcosa di mai provato, proprio mai provato ed eravamo molto molto contenti perché tutti sentivamo proprio la mancanza del nostro sorriso, del nostro abbraccio, era una cosa vitale, direi che è una cosa vitale. Il piccolo Cottolengo, fondato nel 1933 da Don Orione, ospita circa 300 persone. A lungo, a causa del Covid, hanno potuto entrare solo gli operatori, che hanno cercato in ogni modo di colmare il vuoto causato dalla mancanza dei familiari. E io mi chiedevo sempre, ma perché gli operatori tutto sommato ho un privilegio? Perché io posso darglielo l'abbraccio, no? E quindi quello che facevamo poi magari era così, in videochiamata, di guarda che glielo sto dando io l'abbraccio al tuo posto. Abbiamo molte speranze perché tutti gli ospiti sono oramai stati vaccinati. Anche molti dei familiari hanno ricevuto il vaccino. Questo ci apre delle speranze di poter riaprire l'istituto, portare gli ospiti all'esterno, ma speriamo anche di portare i parenti, i familiari all'interno, così come i volontari, che sono importantissimi per la vita relazionale dei nostri ospiti. Grazie a tutti.